Allora, io ammetto che conoscevo poco della tua musica, conoscevo le canzoni più famose, tipo Da grande sarai feroce o è la più famosa? Dipende tra le più famose, dipende anche dall'ambito. Molte altre non le conoscevo, quindi io mi sono sparato tantissima roba tua, mi sono guardato tutti i video, peraltro il video con Karma B, io sono grande fan. Sì, ben fantastiche. E da lì mi sono però un po' chiesto, devo essere sincero, a chi sta parlando Emanuel in queste canzoni? Perché il discorso di predicare i convertiti io lo vedo molto nella tua musica. Assolutamente sì, è così. Questo è molto vero, ma addirittura è un'intuizione quello che hai avuto, in contrasto con l'immagine mia di provocatore. Perché è in contrasto? Io spesso vengo definito un provocatore e capisco di poterlo essere al lato pratico, ma non lo sono nelle intenzioni. Io non mi siedo dicendo, adesso voglio dar fastidio a quella categoria di persone. Io dico, adesso voglio dare voce, voglio far sentire rappresentata, è capita quest'altra categoria di persone. Se per farlo devo offendere qualcun altro, è un prezzo che pagherò senza particolari scrupoli. È un effetto collaterale, non è ricercato, è assolutamente così. Però, attenzione, io separo tantissimo i due registri. Quello artistico e quello, come possiamo definirlo, intellettuale, hanno due funzioni profondamente diverse. Non mi piace molto che si mescoli, hanno proprio due funzioni. Assolutamente sì, con la mia musica non intendo... riformulo. Intendo proprio, ripeto, far sentire capiti. Quindi sì, mi rivolgo a persone che già hanno familiarità con determinati concetti. Io, quando ti ho accolto sul palco, ho detto a tutti che tu sei... non mi ricordo esattamente che parole ho usato, ma che tu sei molto sfaccettato. Io me ne sono accolto subito quando abbiamo iniziato a parlare. Ok. Perché l'immagine che effettivamente traspare nelle tue canzoni, nei tuoi video, è estremamente diversa da come tu sei. Sì. Estremamente. Lo so. Non voglio dire che sembra quasi un act, un... Come si dice? Ma puoi dirlo, perché lo è. Eh, però lo è. Lo è. Tu stai interpretando un personaggio. Al cento per cento. Sempre stato così? A livello artistico o nella vita? Hai appena espanso la mia domanda. Quindi lo sei anche a livello artistico o anche nella vita? A livello artistico al cento per cento, ma devi considerare che io nasco a livello artistico come un troll antelitteram. Ok. Sembra sempre che abbia iniziato nell'ottocento, ma quando ho iniziato io non c'era Facebook, c'era MySpace. Era un'operazione, diciamo, dadaista. Volevo che le persone vedessero un prodotto confezionato bene e si chiedessero, ma che cazzo ho appena visto? Ok. Ma davvero? Ma scusate, ma questo davvero sta cantando di buccacche con un video tutto fighetto? Sì. Era... Cioè, l'operazione artistica era quella. Ok. Dopo il secondo step è stato capire, però qua posso farne un lavoro. È arrivato, insomma, un manager e avevo delle imbedizioni in tal senso. Poi progressivamente ho iniziato a mettere sempre di più la persona nel personaggio. Però assolutamente, quello è un act al cento per cento. Grazie per aver guardato questa clip. Su questo canale YouTube ne trovi molte altre provenienti da live, video vari, ma soprattutto dal Breaking Italy Night. Iscriviti per non perdertelo. Grazie inoltre a Tridon, che sponsorizza le serate in teatro e che per l'occasione ha creato un albero ad hoc che si può ottenere solo sino alla conclusione della stagione 3 del Breaking Italy Night. E per ottenere questa versione speciale di una pianta di guava, che verrà piantata in Malawi per aiutare le popolazioni locali e combattere la deforestazione, trovate un link in descrizione. Grazie a tutti.